Alvano, Brand Manager di Marmo Macchina, Enrico Morteo, Historian of Design, Mia Pizzi, Managing Editor Rova. ...felice incontro tra una poetica progettuale e di una straordinaria capacità di sviluppare. L'avestimento si risolve in una ricerca intorno all'idea della lavorazione contemporanea, che in una sostanza stessa del progetto, le lavorazioni evidenziano la possibilità di ottenere moduli leggeri con cui comporre quinte di aerea in trasparenza, così come stratificare la materia in arabeschi traforati. Da sottolineare il sistematico utilizzo dei ritagli di lavorazione. Complimenti, allora, congratulazioni. Un minuto e la facciamo subito. Aspettiamo un premio. ...a premiare il Presidente di Verona Fiera, Ettore Riello.